Ciao, sono Don Davide e sono qui per dirti che da domani, 1 ottobre, inizia qui sul nostro profilo Instagram Una parola per te. Ogni domenica, in un minuto, ti regaleremo una parola. E ti chiederai magari che senso abbia ricevere in dono una parola in mezzo alle tante parole che ascolta e dica ogni giorno. Beh, devi sapere che non si tratta di una parola qualunque, ma della parola con la P maiuscola. E la parola di Gesù, una parola che si accogli con fede, ha davvero la capacità di trasformare la tua vita come ha trasformato la mia e quella di tanti altri giovani. Allora, clicca qui sull'hashtag in sovraimpressione. Ah, non lo vedi? Ebbè, è normale che tu non lo veda perché non c'è. Non ci sarà nessun effetto speciale, di speciale ci sarai soltanto tu che sei speciale per Gesù che ti ama di un amore immenso. Speciale è la sua parola che è quella parola che il tuo cuore attende, anche se forse ancora non lo sai. A domani!